un saluto da vitali immobiliare oggi voglio presentarti un pezzo di storia di cesena i frigoriferi raccordati ci troviamo in via ravennate e questo impianto è a due passi dalle arterie principali l'autostrada e la e45 parliamo di due corpi principali quello in cui mi trovo ora sviluppa oltre 4.300 metri quadrati di coperto e direi che ha un'altezza importante tu cosa ne dici bartino hai ragione daniele da quassù vedo tutta la parte alta del capannone che è senza barriere l'altezza è di 8 metri e mezzo sotto le centine più la volta proseguendo girando l'angolo c'è la zona delle celle frigorifere dove vedo natasha sì martina sono qui che cammino tra le 27 celle frigorifere in cui è suddivisa questa parte del capannone ovviamente tutto l'impianto è stato modificato e questi spazi ancora oggi suddivisi potrebbero essere l'ideale per un servizio di stoccaggio per privati un self storage tipo easy box per intenderci mentre invece so che nell'altro capannone le celle sono state completamente smantellate vero daniele esatto natasha qui come vedi è una zona completamente aperta qui invece abbiamo questo spazio costruito in cartongesso proprio dedicato alla vendita al pubblico l'altezza è a sette metri e mezzo al controsoffitto ci sono gli impianti di climatizzazione e pensate che l'intero capannone sviluppa oltre 3.600 metri quadrati di coperto mi sono dimenticato qualcosa martina beh daniele il piazzale supera i mille metri quadri e vorrei soffermarmi anche sul trompo di questa quercia fossilizzata che si trova proprio qui a metà del piazzale pensate che ha circa 1700 anni poco più avanti si trova anche una pesa che volendo può essere ripristinata la vedi natasha ci sono sopra martina ma per fortuna non funziona perché ultimamente un po esagerato con i carboidrati detto questo ci sono altri 300 metri quadri tra servizi e uffici e qui abbiamo finito il nostro giro che dici dico che parliamo di una superficie di oltre 10.000 metri quadrati compensate ben oltre 8.000 metri quadrati di coperto vicino a tutto addirittura ha neanche cinque minuti di macchina dal centro della città il prezzo quello come sempre in vitali immobiliare è perfetto